Dunque, avendo detto in apertura che ci piace dedicarci più che mai al concetto di famiglia nella puntata di oggi, lo so di presentare un attore pluripremiato, pluribravo, ma tanto pluri, proprio bravo, bravo assai, però con lui partirò da come sappia essere uno splendido papà. Paolo Briguglia, grazie di essere con noi, grazie a voi dell'invito. Da Palermo a Roma, con un talento che, eh sì, questo è, un talento che col talento si nasce e poi lo si lavora, come fanno i grandi scultori, diceva Michelangelo a chi gli parlasse del Davide, ma era tutto lì dentro, indicando il blocco di marmo, però era vero, era tutto quanto lì dentro. Faccio questa, vado a questa fotografia e poi torniamo indietro, torniamo indietro. Questo è il premio Oscar già vinto. Questo è l'ora solare. Questo è l'ora solare, grazie Paolo, che carino. Allora, chi sono queste ragazze in fotografia? Quella ragazza col cappellino rosso come me è mia moglie, Alessandra, e loro sono Carla, Nora e Maria Luisa. E sono tutte femmine, questa è la mia famiglia. Beato tra le donne. Beato tra le donne. Ho tre figlie più una. Che carino. E' stato un momento bellissimo della mia vita in cui ho cominciato ad essere padre, non solo attore, sai, dicevi tu da Palermo a Roma, questo grande viaggio, la formazione, poi tanto lavoro, molta crescita personale, però a un certo punto la crescita è diventata, la crescita umana data dal diventare padre, dal prendere questa grande responsabilità. Allora, se già eravate tifosi di Paolo Briguglia dopo questa intervista esonderà il tifo nei suoi confronti. Perché? Perché l'insegnamento e qui torniamo indietro, l'insegnamento, io do del tu Paolo, per favore, all'inglese, dei tuoi genitori. Si fa l'attore non per raggiungere la fama, non per diventare l'attore famoso, ma soprattutto perché si ha la responsabilità, sapendo fare, sapendo diventare un altro, di portare avanti ruoli e personaggi che possano essere di aiuto, che possono essere un insegnamento sociale. Ora, dei genitori che ti dicono una cosa del genere sono a loro volta dei casi rari. Guarda, con la valigia in mano, io partivo per Roma, erano 25 anni fa, non c'erano voli locose, non c'era internet, quindi era ancora un po' più lontano da Palermo. Sulla porta di casa, con la valigia in mano, mi parla di Palermo e mi ha detto per favore però non diventare famoso. Poi gli anni dopo ho detto papà, lì non l'hai accontentato. Poi dopo gli ho detto papà ma se io non divento famoso poi è anche più difficile lavorare, fa parte del mio lavoro, ti prometto che se diventa famoso sarà nonostante me, non è il mio obiettivo, il mio obiettivo è fare cose belle, raccontare belle storie, però questo è il senso, loro non c'era un precedente in famiglia di qualcuno che volesse fare l'attore, quindi era un mestiere misterioso. Lui ha detto farlo come se stessi andando all'università, come se facessi il medico, con la stessa etica, con la stessa voglia di fare qualcosa di positivo. E questo se volete, attenzione ricordatevi sempre la storia del talento, questo se volete ha prodotto che un brillante studente in lettere si innamorasse dell'idea del teatro prima, i più grandi nascono sempre da lì, e poi comunque della recitazione. È stato una specie di rapimento quando con i ragazzi del liceo, i miei compagni, la prima volta abbiamo fatto le prove e poi uno spettacolo, per un ragazzo di 17 anni, 16 anni, che vive tra lo sport, le cose belle, eccetera, però trovarsi su un palcoscenico davanti a degli occhi e delle orecchie che aspettano una storia ed essere il tramite di una storia, hai delle parole da far venire fuori e farle andare avanti, e poi da lì tante cose sono successe, tanti corsi, tanti studi, fino al viaggio a Roma, però è nato così, come un gioco... È nato così. Allora voi mi permettete di fare un grosso salto in avanti, perché quella, noi giorni fa abbiamo ricordato la figura di Felicia Impastato e c'è in quel film, i cento passi, la figura di Giovanni Impastato, il fratello di Peppino. E quella camminata, quel contare cento passi, fa sì che quel fratello abbia coraggio, paura, capisca che cosa potrà accadere. Ecco, quella scena e quel film, quando parliamo di un attore ragazzino, mi permetto di dire, perché è stato veramente un grande momento per una grande storia. Sì, è un momento fondamentale per Giovanni, perché lui passa da un'esistenza normale, Peppino era già fulminato, aveva già capito, certo. E Giovanni lì comincia a capire che anche lui non può restare imparziale a seguire le sorti della famiglia, infatti Giovanni dopo la morte di Peppino prenderà lui il testimone e a lui si deve tutto il lavoro fatto e la riscoperta della figura di Peppino. Giovanni si è battuto tantissimo perché il film venisse realizzato. Quella notte abbiamo girato questa scena a cento passi nel posto vero. Abbiamo girato tra la casa di Badalamenti e tra la casa Impastato. Davanti alla casa di Impastato e dietro le imposte chiuse di questa strada di Cinisi percepivamo, erano le tre di notte, le presenze di tutte quelle persone che per paura, per omertà, per tradizione, per cultura mafiosa sentivano la nostra presenza nel paese come un fastidio e questo ha dato una grande energia a quella scena del film e il fatto che ci fosse poi Luigi Locascio che con l'interpretazione meravigliosa avesse scelto di urlarle quelle parole per squarciare le orecchie di che ascoltava e turbare il silenzio immobile di quella piccola cittadina ha reso quella scena veramente potentissima. E l'ha resa potentissima il tuo essere trascinato perché un attore dice tantissimo quando non parla. Con i piani d'ascolto. Ho avuto dei grandi complimenti per quel piano d'ascolto da quella scena. E tanti di quei complimenti che nel 2002 il film È la La Main, che è una pagina importante della nostra storia, porta a Paolo Briguglia il globo d'oro come miglior attore esordiente. Che telefonata hai fatto a papà in quel giorno? Mi dispiace sono famoso più che mai e ho vinto anche il globo d'oro. Sto scherzando ovviamente per carità. Però questa è stata un'altra pagina. Io devo saltare tra i tanti film che tu hai fatto, tra i tuoi tantissimi lavori. Però qui c'era poi in mezzo anche la responsabilità della storia. È stata una delle spese più straordinarie della mia vita perché allora Enzo Monteleone aveva scritto Mediterraneo. Mediterraneo aveva venuto il premio Oscar. C'era un grande rilancio del cinema italiano. c'era bisogno di storie belle e grandi. Però Mediterraneo era una commedia. E lui invece voleva esplorare, ne aveva tanti episodi della Seconda Guerra Mondiale, questo gli piaceva da morire, aveva fatto un documentario bellissimo sui Reduci. Lì, riassumo velocemente per chi non lo sa, le truppe italiane venivano mandate a morte certa perché gli veniva detto che stavamo per vincere la guerra d'Africa, invece non avevamo munizioni, non avevamo niente da mangiare, eccetera. Quindi la storia segue di questo volontario universitario che arriva lì pensando di arrivare a fare chissà che cosa, invece viene sbattuto al fronte in quella situazione tremenda. Il film racconta di questa battaglia praticamente finale e poi ritirata di tutta questa, un esodo biblico di tutti questi uomini. Quindi grande senso di responsabilità per raccontare le vittime e tutte queste persone che erano sparite nel deserto ed erano morte. Però parallelamente grande avventura perché penso a un ragazzo di 28 anni che ha finito la scuola da poco che viene portato per due mesi in un deserto del Marocco con una troupe cinematografica, il grandissimo Pierfrancesco Favino e tanti altri attori, c'era Emilio Sorfrizi, Luciano Scarpa, Thomas Strabacchi, eccetera, in condizioni assurde, 52 gradi, 49 gradi, delle volte di notte arrivava questo vento del deserto, queste tempeste di sabbia che di notte non si vedevano. Quindi con Pierfrancesco nel mezzo di una scena in cui mangiavamo da queste scatolette, a un certo punto è arrivata un muro di sabbia, un tornado, ci siamo dovuti scappare dentro le roulotte e succedeva spesso. Quindi è stato catapultato in quel mondo lì, un'avventura straordinaria e abbastanza irripetibile. Rimane uno dei film più belli che abbia mai fatto. Quando ti hanno detto Globo d'Oro e hai sentito il tuo nome? Io ho sempre un grandissimo imbarazzo verso tutto quello che non è stare sul palcoscenico o dietro una macchina da presa e recitare. Tutto quello che poi è dopo, il premio, non so mai come prenderlo, ti dico la verità, mi sento sempre, devo vincerla questa cosa. È bello, come dire, se fai qualcosa di bello, è bello dire, ah, l'ho fatto bene, grazie. Invece sono sempre molto critico verso quello che faccio. È quella frase detta sulla soglia della porta con la valigia in mano, Paolo. È per colpa di mio papà. È una colpa buona. Tu sei una gran persona per bene, sai. Tu sei la fotografia di cosa voglia dire un uomo per bene. E questo te la devi sentire dire, mi dispiace. Imbarazzati, non so. Però non sono la sola a pensarla, hai voglia. Allora, collaborazione con tantissimi attori. Noi abbiamo una foto di Ennio Fantastichini, perché poi c'è questo, no? Questo, Ennio ci siamo conosciuti dieci anni fa su un film che si chiamava La Cosa Giusta, ed eravamo due poliziotti, lui scafatissimo, io anche lì novellino, e finiamo per diventare grandissimi amici. Siamo diventati grandissimi amici, poi nei successivi dieci anni questa amicizia è diventata extra professionale, perché non abbiamo mai più lavorato insieme, semplicemente ci seguivamo nei lavori. Non ci siamo mai persi, sai questo lavoro, stai sei mesi fuori, fai la tournée, fai il film, passa tanto tempo e ti perdi. Invece con Ennio siamo sempre rimasti vicinissimi e si è creato un legame veramente fraterno. Poi non lo sentivo da due mesi, perché appunto lavoravo con lui, leggo sul giornale Fantastichini una polmonite all'ospedale di Napoli, dico vabbè poi domani lo chiamo perché voglio sapere come sta, e due settimane dopo mi chiamo e dice guarda che è morto Ennio. Paola che ti devo dire? Lui è stato uno dei più grandi attori italiani, un cuore, un temperamento fortissimo, e quindi abbiamo perso uno straordinario collega. Io ho perso l'amico intimo quasi, per me Ennio era un fratello maggiore, era qualcuno che aveva fatto da dieci anni, quindici anni questo mestiere, più di me aveva lavorato con grandi maestri, aveva avuto questo legame privilegiato con Gianmaria Volontè, che aveva avuto la fortuna di incontrare nel suo cammino. Io avevo avuto la fortuna di inventare lui, di incontrare lui, quindi per me lui era il mio Volontè, la persona che mi sentivo privilegiato a poter chiamare e frequentare. e me lo porto dentro. Io sono tutto timidezza, lui era tutto temperamento ed energia, quindi in qualche modo poi quando se n'è andato ho detto ok, devo raccogliere questo testimone e fare mia questa energia. Continua a recitare, lo fai? Per due, no? A recitare per due, a stare seduto sul set per due, ad alzarti per due. Questo è lo spirito. Stavo, ero in scena in quel momento, stavo facendo uno spettacolo, tra l'altro Shakespeare, la tempesta, e il mio personaggio crede di avere perso il padre, poi lo ritrova. Ti puoi solo immaginare, insomma, cosa mi portavo in scena quando andavo lì. Ed è molto importante quello che stai dicendo, perché gli attori sono in scena. Noi non lo pensiamo mai questo, quando li vediamo, andiamo a teatro, veniamo ad applaudirvi o quando vi applaudiamo se siamo al cinema. E non pensiamo mai che dietro ci sia una persona che ha appena perso l'amico fraterno. e nonostante questo la forza di essere un altro, no? Sì. E questo è recitare. Ci portiamo dentro tutto quello che abbiamo, almeno. Allora, io lavoro così. Quelli bravi. Cerco di far sì che le persone che vengono a vedere uno spettacolo facciano un'esperienza, un'esperienza umana, e non la comunichi solo attraverso le parole. La comunichi in modo misterioso attraverso quello che ti porti dietro, quello che riesci a fare vibrare agli altri. E lo fai solo se tutta la tua vita, quando sei in scena, finisce quello che fai. Paolo Briguglie, è questo. Io ripeto, torno... E non mi sono... E non lo so, sto rubando qualche minuto in più, ma ne vale la pena. Allora, qui parla la mia parte lucana. Sì. Basilicata cost to cost. È sempre da rivedere. Rocco Papaleo, Gito Tutti, Alessandro Gasman, Giovanna Mezzogiorno, Max Grazia, il debutto di attore. E questo meraviglioso ragazzo che seguiva, no? No, io ero piccoletto, il ragazzino del gruppo, chiaramente, no? Che seguiva, anzi, facevi parte di questa banda scalmanata. Poi, come se uno, così, come se non bastasse, andate a rivedere il figlio della luna. Perché il figlio della luna è, tra le tante, una delle interpretazioni di Paolo Briguglia più difficili, più belle, più tante, più splendide. Fulvio Frisone, fisico nucleale tetraplegico. Spastico distonico. Lo dico perché questo... No, no, dimmi, dimmi. Devi parlare tu. No, perché era importante ricostruire questo tipo di patologia. Cioè, è tetraplegico perché non ti puoi muovere e non usi gli arti. Spastico perché li usi in maniera spastica e distonico perché non riesci a coordinarli. E quindi non solo c'è lo spasmo, ma c'è anche che tu vuoi fare una cosa e ne succede un'altra nel corpo. E quindi la famiglia Frisone è meravigliosa. Lucia e Fulvio sono una forza della natura, tutti e due, due volcani. E quindi, primo passo, ho detto vado da loro. Sono andato, mi sono andato a casa loro. E ho detto, Fulvio, ma ti posso riprendere? Certo, certo, fai, fai. Quindi ho fatto dei filmati e a poco a poco li riguardavo per cercare di capire come rifare lui, ma rifarlo in maniera che fosse, come dire, passabile per la tv. Nel senso che poi lui... No, no, eri completamente credibile. E bisognava... Non passabile. No, ti ringrazio. Solo che lui quando parla non lo capisci. Devi veramente passare mezza giornata con lui per cominciare a capirlo. Capire. Invece noi recitavamo, quindi dovevo fare sì che fosse una voce distorta, ma comprensibile. È stata una scalata, una scalata di una montagna. Però meravigliosa perché la cosa bella di fare il personaggio di Fulvio, poi fa impressione perché non è un personaggio, è una persona, è il suo carattere. Cioè la difficoltà di riprodurre, sì, d'accordo, ma è il suo carattere. Fulvio è uno sbruffone, è comico, guascone, divertente, genialoide. E quindi la cosa bella era poi mettere dentro questo corpo bloccato questa forza vitale incredibile. E mi ha dato veramente una gioia fare quel personaggio. Abbiamo trasmesso con quel film una grande energia. Una grande energia, un grande rispetto per quella storia. Questo è Paolo Briguglia. Quando io dicevo è la statua che sta dentro al blocco di marmo e il talento di chi è fuori lavorare quel marmo è l'attore stesso che fa uscire volta per volta questo personaggio. Ultima cosa. Sì, lo so, c'è il mio direttore di studio che si sta disperando. A lui faccio un applauso a Stefano. Una pazienza epica. Velocissimi, l'avventura da regista. La regia. Ho cominciato a fare regia perché c'era una storia che era una storia di un amico senegalese che aveva vissuto a casa nostra con mio fratello e aveva una storia abbastanza incredibile di una paternità che aveva dovuto abbandonare perché aveva incontrato una famiglia palermitana che gliel'aveva impedito. Insomma, vado al succo. Quindi era una storia bellissima di integrazione e l'ho scritta, ho avuto un finanziamento e l'ho diretta quindi ho fatto un cortometraggio. E poi, altra storia che non potevano raccontare la storia di un bambino afgano che è lasciato dalla madre nel vicino Pakistan per sei anni fa una piccola straordinaria odissea con un angelo custode appollaiato qui sulla sua spalla si chiama Nel mare ci sono i coccodrilli ed è un monologo che continua a portare in giro quando me lo chiedono perché è una storia incredibile e chiunque l'ascolta poi cambia. È una storia miracolosa. Io l'ho detto, una gran persona per bene prima ancora di essere uno splendido papà e marito e un grandissimo attore. Paolo Briguglia, L'Ora Solare. Grazie. Grazie di essere stato con noi. Va bene, mi fermo. Arriviamo tra un attimo. L'Ora Solare. Non si può tenere oggi. Eh, lo so. Non si può. Ci sono momenti in cui bisogna fare una specie di solare. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.